ci siamo manca poco un minuto il tempo che vuoi di 13 10 2 2 di Bavana Cristiana Michael finisce con il tempo di 13 19.68 duro Michael finisce con il tempo 153 in vita al scarpiere nella valente rotodale dai vai 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 mani subito buono buono qua iniziamo a fare velocità vai 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 su Michael su iniziamo a fare velocità qua velocità andiamo via 44 45 siamo ai 42 portati sul centro strada esatto 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 mantieni sempre la sinistra per poi tagliare a destra vai tagliare a destra vai tagliare a destra tagliare a destra siamo siamo sui tempi adesso vai 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 sempre mani qua sempre mani dai dai alè 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 abbiamo appena fatto abbiamo appena fatto 1.22 taglia taglia la taglia anche questa le alè 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 facciamo velocità qua adesso questa tienila tutta sega tienila bravo vai 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 ora così siamo a 43 di media va benissimo stiamo aumentando qua mani la non cambiare di più rilanciamo vai vai bene così bene vai portati sulla destra dai 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 stiamo aumentando e va bene così stai sul centro non ti preoccupare delle macchine bene taglia taglia stai sulla sinistra stai sulla sinistra stai sulla sinistra bravo vai 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 stai sulla sinistra stai sulla sinistra lì bene questo devi mettere le mani il dosso perchè non c'è lo spazio dai 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 alè alè Qua portati sulla sinistra Questa è la rotonda larga Questa è la rotonda larga che la facciamo con le protesi Dai 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 allarga 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 prendi tutta la strada vai 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 Aumentiamo adesso aumentiamo Aumentiamo Michael Portiamo su la velocità dai Michael dai Ale 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 Grazie Due rapporti al massimo non tre quattro due rapporti al massimo Portati sulla sinistra Vai Ale che è larga Ale che è larga vai 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 Qua manteniamo la sinistra e occhio che chiude Occhio che chiude Dai che qua dobbiamo aumentare la velocità eh Occhio che chiude e poi via sparati eh Dai Ale 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 Tieni le protesi tieni le protesi Dai Ale Ale Dai che dobbiamo fare velocità dai 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 Tieni le protesi tieni le Velocità dai 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 Qua mantieni la destra mantieni la destra Occhio Mantieni la destra occhio che questa chiude Dai Ale 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 Dai 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 che manca quattro chilometri dai Ale 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 Michael dobbiamo fare velocità qua dai 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 Giornata no giornata no Questa si allarga falle con le protesi si allarga Dai Ale 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 Mantieni in centro strada Dai questa è larga vai 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 taglia Stiamo sulla destra Stiamo sulla destra Dai Michael dai muro Stiamo sulla destra Stiamo sulla destra adesso Dai Dai Facciamo velocità qua adesso eh Anche questa si allarga non serve pro Non serve le mani questa si allarga Palla bella Palla bella Larga e chiudi Vai chiudi 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 Dai Ale 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 Dai che stiamo migliorando Stiamo alzando la media qua stai tutto sulla sinistra tutto sinistra sinistra E occhio che c'è subito curva destra ma è ampia Palla con le protesi Palla con le protesi Palla con le protesi Vai 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 Ale 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 Dai che si allarga si allarga Ale 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 Dai 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 Rotonda qua dritti è bella ampia con le protesi Ale 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 Vai 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 Bene adesso centro strada portati verso il centro strada Anche più largo anche più largo Dai che bella larga è bella larga vai 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 Dai che qua c'è il cavalca via riprendiamo subito la velocità tranquillo tranquillo Dai 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 Michael qua c'è la discesa riprendiamo velocità dai 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 spingi spingi dai duro dai 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 michael duro taglia 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 qua c'erano le mani ma è larga mani ma si allarga dai 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 sinistra subito sinistra subito questa chiude un po portati sulla destra alle 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 sinistra subito sinistra portati sulla sinistra dove c'è l'uomo con la maletta bianca lì c'è la curva ma è abbastanza ampia uso le mani però dai alle 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 lancia lancia dai 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 qua è tutto protesi qua è tutto protesi dai dai è finita dai sono 300 metri dai a tutta alle 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 michael alle 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 dai tutto diamo tutto chiudete Grazie a tutti.